Buon pomeriggio a tutti, bentrovati come sempre al nostro appuntamento del lunedì con i Valli di Gruppo. Dopo aver fatto e aver ripreso piacevolmente il nostro riepilogo con il signor Sanò e il nostro carissimo amico della settimana scorsa, questa settimana riprendiamo con un nuovo ballo, nuovo per modo di dire ma forse potrebbe anche esserlo. Lavoreremo su una tarantella, quindi comunque brani già conosciuti, il passo potrebbe avere qualche piccola variazione rispetto a quelli che abbiamo già fatto o avete già fatto perché ha partecipato anche negli anni precedenti al nostro corso di Valli di Gruppo. Quindi come sempre, giro le spalle semplicemente per rendere tutto più agevole ed eliminare l'effetto specchio, partiamo! Allora, molto semplicemente, molto semplicemente i passi saranno piccoli, soprattutto passi piccoli, attenzione perché il ballo, la tarantella è un po' veloce. Se facciamo passi troppo ampi, finiamo, soprattutto perché noi dobbiamo vederlo in prospettiva per quando balleremo tutti insieme, la tarantella nella velocità con i passi troppo ampi rischia di farci sbattere l'uno con l'altro e questo non deve accadere. Quindi mi raccomando, io adesso nella spiegazione li farò abbastanza ampi per farveli vedere meglio, ma poi come vedrete nell'esecuzione saranno tutti molto molto più piccoli. Allora, inizieremo, adesso elimino la mano sul fianco e la prova fatta con la mano sui fianchi perché la tarantella è così, come molto buon ballo popolare vuole che si muovano bene i cornelloni, soprattutto per le donne. Allora, incroceremo la gamba destra sulla gamba sinistra, molto semplicemente in questo modo. Uno, quindi una piccola rotazione verso sinistra per rendere il movimento uno più più bello da vedere. Quindi, uno verso sinistra, sinistra sulla destra, quindi andremo verso destra, poi di nuovo destra sulla sinistra. Lo rifaccio, partiamo con la destra verso sinistra, in avanti, così, a incrocio, sinistra, sempre stop al centro, poi di nuovo destra. A questo punto faremo un doppio passo, il doppio passo l'abbiamo visto più volte, l'abbiamo visto più volte, doppio passo, lo faremo tre volte, sinistra, destra, sinistra. Quindi, io rifaccio l'inizio, uno, destra, due, la gamba sinistra, destra, primo avanti, doppio passo, partendo con la sinistra. Uno, destra, due, sinistra. Ci saremo fermati in appoggio sulla gamba sinistra. Ruotando sulla gamba di appoggio faremo un giro in tre tempi, cioè uno, due, 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 tre. Quindi, rifaccio, rifaccio. Destra verso sinistra, sinistra, verso destra, destra verso sinistra, doppio passo, sinistra, destra, sinistra. Mi sono fermata sulla sinistra, giro verso sinistra, destra, destra, sinistra, destra. E quindi mi trovo in questa posizione. Una volta fatto questo giro, altro passo che abbiamo fatto in altri palli, molto semplicemente sollevo la gamba sinistra e batto le mani. Vado indietro con la sinistra, sollevo la destra e batto le mani. Vado indietro con la destra, sollevo la sinistra e batto le mani. Faccio di nuovo tutto fino a qui. partenza. Destra, sinistra, destra, doppio passo sinistra, doppio passo destra, doppio passo sinistra. Stoppata sulla sinistra, inizio il giro, ruoco su me stessa verso sinistra in tre tempi. Uno, due, tre. Mi trovo in appoggio, lo stop, adesso la gamba destra. Sinistra, alzo e batto le mani. Uno, indietro, sempre qua sinistra. Alzo la destra. Due, indietro con la destra e batto le mani con la sinistra. A questo punto, con la sinistra che in questo momento è alzata, la porterò indietro e farò tre piccoli passi. Uno, due e tre. Questi tre piccoli passi sono la fine della serie. A questo punto, ricomincio tutto da capo. Quindi, adesso giungo un po' anche le mani sui fianchi. Destra che incrocio verso sinistra. Sinistra che incrocio verso destra. Destra, incrocio verso sinistra. Doppio passo in avanti partendo dalla sinistra. Uno, due, tre. Mi sono appoggiato, sono arrivato in appoggio sulla sinistra. Giro uno, due, in tre tempi. Sono arrivato in stop sulla gamba destra. Batto le mani alzando la sinistra. Vado indietro. Batto le mani alzando la testa. Vado indietro. Batto le mani alzando la sinistra. Con la sinistra inizio i tre passetti. Uno, destra, sinistra. Così sono pronta a ricominciare la serie. Ve la faccio una volta frontalmente, così avete un pochettino la percezione anche di come ci si vede quando si fa. Allora, parto. Adesso chiaramente avete detto tutto al contrario. Non fate caso a quello che dico perché in realtà l'esatto contrario siamo a specchio adesso. Destra, sinistra, destra. Doppio passo. Parto con la sinistra. Poi con la destra. Poi con la sinistra. A questo punto, in appoggio sulla sinistra, inizio a ruotare sempre verso sinistra. Uno, due, tre. A questo punto, alzo la gamba sinistra. Batto, vado indietro. Destra, lato, vado indietro. Sinistra, patto, vado indietro. E faccio i tre passetti. Uno, due, tre. I tre passetti sono l'inizio poi della nuova serie. Due, tre. Dopo passo. Uno, due. Vado un pochettino più a tempo. Tre. Uno, due, tre. Batto, batto, batto. Uno, due, tre. E comincio. Ok? Proviamo con la musica? Sì, io sono convinta, tanto lo facciamo sempre e so che ci riuscite. Metto un attimo la base. Appaggiati, appaggiati, vivi scritti e maledari. E se non parla di cuore, non piccante, non piccola. E se non parla di cuore, non dico, non so di più. Asciugui, su, su, su. Vanti i piedi di calciatore. Su, 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 su. Vanti i piedi di calciatore. Vieni. Buon passo. Vino. Buon passo. Buon passo. Un'altra volta! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Alla prossima settimana vediamo cosa vi riservo. Sarà sempre come sempre una bella sorpresa. Ciao a tutti. Grazie a tutti.